Vi volevo fare vedere anche, che vi ho già fatto vedere in un vlog, questo bellissimo gremiolino che mi sono presa su un sito. In realtà mi hanno chiesto di collaborare, potevo scegliere cover e così via e mi è venuta in mente di farmi il gremiolino personalizzato per fare i video delle ricette.opi. Dukan, classic che faccio. In realtà c'era quello da adulto e quello da bambino. Mi piaceva molto come stile, più quello da bambino. Poi ho pensato, è più pratico perché comunque non siamo uomini, quello da uomo è molto più grande eccetera, quindi potrebbe andarmi bene. In realtà mi va bene, però forse quello da adulto sarebbe andato leggermente meglio. Lo utilizzerò comunque perché mi piace tantissimo e il sito ve lo lascio qua sotto perché non me lo ricordo, però sono veramente carine. Le ho personalizzate io così, quindi la stampa, la scritta, le posate, lo faccio tutto io. E infatti ho anche scritto qua il nome del mio canale, vedete è scritto Manolo Porto, le opi ricette e ho messo le posate fatte così e lo sfondo.